Antonio Siciliano, pasticcere dal 2006, lavora presso la pasticceria Tempio Cafè di Scafati. Preferisce mangiare il cannolo siciliano ed è famoso per la sua torta Rocher. Gioca a calcio e confessa di essere impulsivo. Siamo in compagnia di Antonio, con il quale prepareremo uno dei dolci che non può mancare assolutamente in alcuna pasticceria, ossia il bignè, noto anche come choux. Ora passiamo al procedimento della pasta choux. Gli ingredienti sono acqua, burro, sale, farina e uova. Incominciamo ad immergere l'acqua all'interno di una padella, poi aggiungiamo il sale e il burro. Aggiungiamo tutto immediatamente prima di mettere sul fuoco. E mettiamo sul fuoco. Allora, diciamo che la pasta choux può essere utilizzata sia come dolce, infatti possiamo avere il bignè dolce, farcito di qualsiasi crema, dalla classica chantillyie o con altri gusti, tipo quella a caffè, al cioccolato, nocciola. Oppure, diciamo, può essere anche utilizzato come dolce, diciamo come choux salato, aggiungendo per esempio creme di formaggio, ricotta o altri tipi di farciture. Anto, quindi si tratta di un procedimento non troppo complesso? No, diciamo, è molto facile da preparare. L'unica difficoltà, diciamo, sarebbe solo il porno, perché, diciamo, la cottura è molto importante. Infatti, proprio durante la cottura avviene, diciamo, la levitazione, che anche se non sembra, comunque la pasta choux, diciamo, può essere classificata nelle paste lievitate. Una volta arrivata l'ebollizione, possiamo aggiungere la farina, per chi vuole anche, si può anche sedacciare, oppure va benissimo anche utilizzarla così. Poi dopo mescoliamo, molto energicamente, in modo da non creare né grumuli all'interno, nello stesso tempo, comunque, per mettere, per amalgamare, il momento di una buona pasta. Si è asciugato immediatamente? Sì, ma comunque lasciamo due minuti ancora sul fuoco, girando, in modo da non far, diciamo, bruciarlo. A questo punto possiamo metterla sul banco. Quindi, stendiamo la pasta direttamente sul banco, non c'è bisogno di mettere un po' di farina? No, no, assolutamente, no. Ma ora aspettiamo due o tre minuti che si raffreddi, in modo da non permettere che, comunque, quando aggiungiamo le uova, diciamo, avviene la cottura. E quindi, aspettiamo un po' che si raffreddi. Allora, possiamo anche procedere all'aggiunta delle uova, ne aggiungiamo poche alla volta. Quindi, non aggiungere le uova tutte insieme, come mai? Può capitare che si fanno grumuli e quant'altro. Quindi, per una questione di precisione, di... Sì, per permettere l'ottimimento della pasta liscia e quindi... All'inizio sarà un po' comunque calda, quindi possiamo aiutare anche da un cartoncino. Però non è un problema il fatto che sia ancora calda la pasta. No, poi l'importante è che non è caldissima, tiepida, diciamo, però comunque... Non ci dobbiamo scottare. No, no. Quindi tu dicevi che questo è il procedimento che si può fare anche con l'impastatrice. Sì, questo è il procedimento che si fa con l'impastatrice. Infatti, proprio questo, diciamo, la cosa fondamentale è che quando usiamo l'impastatrice non ci scottiamo. Quindi, questa è l'unica... Ma anche nel caso dell'impastatrice dobbiamo stare sempre attenti a non versare tutte le uova. Sì, sì, la stessa cosa anche nell'impastatrice. Diciamo, e poi un'altra cosa fondamentale dell'impastatrice è che all'inizio non bisogna farla girare molto a vuoto, altrimenti succede che quando abbiamo aggiunto la farina abbiamo creato una specie di emulsione, come si vuol dire, legando quindi la farina con il grasso del burro. Quindi, facendola girare troppo da sola, succede che comunque il burro fuoriesce dall'impasto e quindi dobbiamo per forza ricominciare da capo. Quindi cerchiamo di mescolare man mano tutti gli ingredienti. E alla fine di questo processo di impastatura, la pasta come deve essere? Allora, la pasta come deve sentire abbastanza liscia e soprattutto deve avere una certa elasticità, una specie di crema, quindi molto facile da utilizzare. Diciamo che la pasta ha una certa elasticità, a questo punto quindi la nostra pasta è pronta. E cosa può cambiare invece quando cambia il numero delle uova che utilizziamo? Allora, a fine che dopo diventa, diciamo, troppo molle e quindi non permette, diciamo, una buona riuscita del prodotto. Questo con troppe uova? Con troppe uova. Allora, come fase successiva prepariamo una placca, dopo che abbiamo utilizzato, diciamo, uno staccante per non creare che lo shoo attacchi dopo la cottura. Lo staccante di che tipo, che cosa dobbiamo andare a cercare? No, abbiamo usato uno staccante da pasticceria, poi lo possiamo utilizzare qualsiasi cosa. Tipo, per esempio? Tipo, che ne so, pure burro, però sempre molto, diciamo, deve essere proprio leggero perché non deve permettere comunque... Dove servire solamente a non far attaccare alla pasta. Ora andiamo a fare le forme. Hai testato prima di iniziare a fare le forme nella teglia? No, ho provato solo a vedere, a non far uscire l'aria dal cappuccio. Allora, tra le varie forme, come abbiamo detto, c'è sia quella rotonda, la classica, che viene utilizzata sia come base dei Profiterol, oppure per altri dolci, cioè come la Saint-Denoré, oppure c'è la forma allungata. la cosiddetta forma a goccia. Importante, cioè, poi dipende dal tipo di dolce che vogliamo fare, per quanto riguarda le forme, le forme, ma soprattutto per la grandezza, logicamente. che non devono, non sono pensati esclusivamente come dolci fini a se stessi, ma possono anche essere a corredo di altri dolci più grandi. Sì, di altri dolci più grandi. La forma che, diciamo, tra le, quelle che utilizzo io, questa la faccio, diciamo, con crema al cioccolato. E una volta che abbiamo riempito la teglia, adesso dobbiamo passare al passo successivo? Sì, il passo successivo è la cottura. Gli sciù vengono cotti a 200 gradi per circa 25 minuti. E l'importante è comunque tenere il forno già a una certa temperatura prima di infornarli. Versate in una pentola un litro d'acqua, un chilo di burro e 20 grammi di sale fino. Portate ad ebollizione ed aggiungete un chilo di farina debole. Amalgamate energicamente e togliete dal fuoco. Aggiungete, poche per volta, 26 uova, incorporandole fino ad ottenere una pasta liscia. Create le forme con l'aiuto di un sac a poche e cuocete in forno preriscaldato, a 200 gradi, per 25 minuti. Dopo 25 minuti in forno a 200 gradi, abbiamo finalmente i nostri bignetti. Quello che manca adesso è solo la farcitura. Allora, adesso passiamo a una farcitura. Prendiamo, abbiamo preso, un po' di crema pasticcera. Farciamo varie forme. Si farcisce dalla parte. Sì, si può farcisce sia da sotto ma anche da sopra. Abbiamo scelto anche questo, su questo punto. Facciamo un bel riccio di crema sopra. Anche l'occhio vuole la sua parte. Prendiamo qualche fragolina. E i nostri bignetti. Prendiamo un tocco di zucchero. Ed ecco quindi i nostri bignetti, con crema e fragoline. Ma voi a casa potete liberare la vostra fantasia e guarnirli come vi pare, anche salati. Buon appetito!